Io sono un giudice minorile, non sono un poliziotto e lei non è in tribunale. Il mio ruolo è proteggere i bambini a rischio. Se lo tenga, non c'è problema. Comunque buona fortuna perché questo ragazzino è un vero terremoto. Signora Ferrando! Non mi vedrai più. È la terza volta in quattro mesi che vieni qui. Non posso dire che mi faccia piacere. Io non ci parlo con i deboli. Negli studi ha preso una brutta piega. Non è giusto! Tu chi sei? Da oggi sarà lui il tuo educatore. Io qui non ci resto. Concediti una chance. Te ne stanno dando una, la vuoi sfruttare? Sei qui per il tuo bene. E il capuccio? Corri Maloney, corri! Dai Maloney, forza! Non sono capace! Questo sta a me dirlo e non la penso così. Nessun incidente da segnalare in questi mesi gestisce meglio le emozioni. Sei d'accordo? Riprendere e frequentare la scuola le sembra auspicabile? Sta calmo, va tutto bene, ok? Ha risolto i problemi con la violenza? Ci stiamo lavorando. Oh no! Sono stanca di seguirlo sempre negli stessi posti, nei commissariati, alle odienze. Non ne posso più. Voglio mia madre. Voglio mia madre. Non saranno i muri di una cella a chiarirli le idee in un'età in cui si cerca se stessi. Quel ragazzo in prigione impazzirà. Io ho fiducia. Io ho fatto del mondo. Prendi le mani che ti vengono tesi. Ora o mai più.